Al Mazzucchi di Ardea va in scena la dodicesima giornata del Girone F di Serie D. È la prima di Alessandro Boccolini sulla panchina degli Ardeatini dopo l'esonero di Alessandro del Grosso. Boccolini che in settimana aveva chiesto un cambio di mentalità ai suoi. All'inizio però sembra servire un po' di tempo per metabolizzare perché a partire meglio è il Tolentino. Calcio d'angolo dalla destra e colpo di testa di Noji che svetta più in alto di tutti ma mette alto sopra la traversa. Nuova Florida che comunque entra velocemente in partita e risponde subito per le rime con D'Angelo il 16. Ci porta palla e rientra sul destro e poi calcia ma colpisce troppo sotto e il pallone non si abbassa. Tolentino che però non sta a guardare e risponde subito. Ci connetti, rovescia un po' le nevaganti in aria con Giordani che però non si fa sorprendere. Un minuto dopo dall'altra parte ci prova Pacillo che si fa stuzzicare dall'idea di trovare il gran gol. Destro dalla distanza e pallone vicino al bersaglio. Nuova Florida che continua a insistere prima dell'intervallo trova il gol del vantaggio. Traversione da sinistra, Giorgi non è perfetto e con la respinta consegna il pallone sul sinistro di Miola che scaraventa sotto la traversa il gol dell'1-0. Conclusione da riapprezzare da parte del 4 che porta così avanti i suoi. A inizio ripresa il Nuova Florida continua a far bene e il Bactawi lavora questo pallone per Calombo. Traversione per Capparella che arriva puntuale sul pallone ma con la porta spalancata davanti spedisce incredibilmente al lato. Poco dopo è ancora il Bactawi che prova a fare tutto da solo con la sua tipica giocata. Il 92 si allarga e calcia ma trovando la risposta di un attento Giorgi che gli nega il gol del pari. Nuova Florida che da questo momento vada solo a gestire all'85esimo arriva il calcio di rigore per questo contatto in aria. Dal dischetto si presenta Noji che rimane freddo davanti a Giordani, lo spiazza e fa 1-1. È il preludio ad un finale folle perché il Bactawi si invola davanti alla porta e si inventa questa giocata davanti a Giorgi. Lo supera con il dribbling e deposita in rete, la rete del 2-1. La rete che sembrerebbe quella della vittoria ma c'è ancora spazio per un colpo di scena. Sì perché ha recupero praticamente scaduto sugli sviluppi di questa palla inattiva. Il pallone viene rimesso al centro, mischia furibonda in aria. Arriva una deviazione che mette completamente fuori causa Giordani. Il pallone finisce docilmente in rete e quindi il Tolentino trova il gol del pareggio insperato. 2-2 pareggio beffa per il Nuova Florida. Nuova Florida che torna a far punti ma lo fa con tanto rammarico pareggio amaro alla prima di Boccolini sulla panchina dei Biancorossi. Tolentino che invece interrompe la sua striscia negativa di 8 gare e torna nelle marche con un punto di platino.